Un'altra delle cose che in questi tempi si vedono è questa distruzione, questo accadimento contro il Parlamento come se fosse il responsabile dei mari del Paese e quindi tanti attacchi, tra cui l'ultimo è quello del dimezzamento dei parlamentari, che viene salutato da tanti come se fosse la manna, la panacea, non servono tanti parlamentari, sono lì a non fare niente, prendono lo stipendio, hanno soltanto privilegi, via, casa a casa, però taglia di qui, taglia di là, il Parlamento è il luogo o no dove i cittadini possono ancora, l'ultimo luogo dove i cittadini possono discutere, proporre una legge eccetera, vai a tagliare proprio quello, taglia qualcos'altro, cominciamo dal governo, cominciamo dalle commissioni governative di Conte che non sono state elette da nessuno, tagliamo il Parlamento, io su questa cosa non sono d'accordo, ma so che non siete d'accordo neanche voi, perché c'è un referendum proprio sul no al taglio dei parlamentari o no? Sì, sì, c'è questo referendum e noi siamo per no, per non confermare la riforma approvata ai noi dal Parlamento e direi che questo referendum ha un'importanza straordinaria e il solo fatto che sia stata proposta e approvata questa riforma testimonia un livello bassissimo del dibattito politico. Io spero che nella campagna che si svolgerà riusciremo a convincere il popolo che è completamente ingannato, che gli argomenti con cui lo invitano a ridurre i parlamentari sono quelli proprio dell'utile idiota, è utilizzato come se fosse uno scemo. Possiamo ricordare che c'era un progetto della P2? Era un progetto, lo ricordi? Certo che era un progetto. Propaganda 2, gruppo di massonico e aggressivo. Allora andiamo a vedere cosa dice il popolo. Il popolo dice che i parlamentari sono troppi, questo si è sempre saputo, potrebbe essere vero, però sono troppi perché ce ne sono una parte brava, una parte non brava, una parte laboriosa, una parte non laboriosa. Se noi andiamo a tagliare i parlamentari non abbiamo alcuna certezza, anzi direi che proporzionalmente taglieremo tanti bravi e tanti non bravi, un terzo dei bravi andranno via, un terzo dei laboriosi andranno via, minimo, non c'è ragione, in realtà ci sono molti motivi sottili per pensare che cada anche peggio, ma complessivamente siccome oggi i partiti sono quello che dicevamo prima, sono una cosa inqualificabile e gli italiani stessi in fondo li disprezzano, quando li votano li votano per votare contro l'altro, ma non perché li stimano, che cosa accadrà? Già sono pochi quelli bravi, quelli laboriosi, quelli capaci, se noi andiamo a tagliare peggioreremo il livello, questo lo sappiamo, per mandare a casa qualcuno che sappiamo che non serve a niente, perché ci sta, noi però decidiamo di peggiorare il livello, questo è un dato di fatto, non puoi evitare, se fossero mille bravi potremmo dire riduciamoli, ma poi devi essere sicuro che poi restano i 666 bravi, però riduciamoli, ma questo non è primo, quindi peggiori, sicuramente è oggettivo che si peggiori la classe politica parlamentare, almeno in questa situazione, secondo elemento, alcuni territori rimangono senza eletti, per forza di cose, perché con dei collegi più grandi delle valli alpine, delle contrade di circa 60-70 mila persone che saranno minoranze in un collegio che diventa di 200 mila, la città di Rieti non avrà più un senatore, ora questa cosa qui non bisogna pensare che sia rilevante, io adesso mi trovo a vivere in Umbria, in Umbria hanno fatto per le regionali la scelta di farne un unico collegio, quindi non ci sono circoscrizioni provinciali, accade quindi che a Orvieto nemmeno il PD o chi vince riesca ad eleggere dei consiglieri regionali nella zona di Orvieto, quindi quando in realtà una contrada italiana, una parte di una provincia non elegge più dei consiglieri regionali o dei deputati, abbiamo dei cittadini parziali, si può star certi che se si deve tagliare qualcosa si taglia là, se si deve spendere qualcosa non si spendere là, quindi questa è una ragione, innanzitutto perché tante zone d'Italia dovrebbero riflettere su se stessi, guardate che voi vi state suicidando, ma anche chi vive in Urbato in città dove può dire magari Roma 32 sono troppi, vabbè Roma magari 32 sono troppi, però se tu voti per il taglio stai votando perché tanti cittadini non avranno più una rappresentanza parlamentare, che poi quando si tratta di non far togliere un ospedale, un tribunale, comunque qualcosa fanno. Ricordiamolo, aspetta, perché ogni senatore, ogni parlamentare ha un suo bacino di rappresentanza, se sono più senatori, più deputati, uno magari rappresenta 40.000 persone, 30.000 persone, quindi poi risponde, durante quelli che l'hanno votato, durante la legislatura possono chiamarlo, discutere, ci tagliano l'ospedale, ci fanno, lui magari può portare la sua voce. Certo, la città iscrizione passa da circa 100.000 a 200.000. Uno, cioè, a chi rispondi? A più nessuno? Non c'è più... E c'è una parte di questi 100.000, la contrata chiamiamola minore di questi 200.000, che non lo eleggerà, se sono 60.000 e 40.000, oggi i 60.000 si prendono i 40.000 dall'altra parte ed eleggono un rappresentante di questi 100.000 e un rappresentante di questi altri 100.000. Quando ne avrai una da 200.000, eleggerà sempre l'Aquila, non Avezzano, no? E quindi gente senza rappresentanza. E questo è un altro secondo argomento, è oggettivo, quindi volere ridurli segna questo. C'è un terzo argomento che sta molto a cuore. Allora, siccome noi questi parlamentiti non li stimiamo, non li stima quasi nessuno, direi quasi nessuno, il 10% credo che voti un partito oggi perché crede che è un grande partito, perché ha valore, lo vota perché è meno peggiore. Ora, con questa riduzione dei parlamentari, pur rimanendo formalmente la barriera del 3%, in realtà, siccome in un collegio non ne eleggi più 22, ma ne eleggi 16, lo eleggerai soltanto con il 5% e dove non ne eleggi oggi 22, ma ne eleggi 15, lo eleggi con il 9%. Quindi è una legge con cui la casta, comprensimo il Movimento 5 Stelle, cioè questi partiti, la casta vera, si sta barricando e si sta tutelando dalla possibilità che nascano nuovi partiti, perché di fatto si sta togliendo il limite del 3%. Dov'è che eleggi con il 3%? Quando hai 22, 23, 24, 25 in una circoscrizione eleggi, nella parte proporzionale, il 3% riesce ad eleggere. Quando invece che 24 diventano 16, perché divide per 3, e allora non arrivi con il quotiente col 3%, non ci arrivi nemmeno col 4%, ti serve il 5%, nelle circoscrizioni dove ne eleggerai 9%, ti serve l'8%, quindi è una legge catastrofica, poi ci sono tutte altre questioni, elezioni del Presidente della Repubblica, ma noi abbiamo costruito un comitato, non abbiamo voluto affrontare queste questioni tecniche per le quali parleranno costituzionalisti, ci sono tanti problemi, quindi è una riforma disastrosa, però ci sono questi 3 motivi, territori senza rappresentanza, si vota per la conservazione, per dare il potere ai partiti che adesso esistono nonostante che non li esistimi, visto che il livello dei bravi, dei capaci e dei laboriosi è già bassissimo, li si taglia di un terzo e quindi un Parlamento che già oggi si fa scrivere le leggi dalle lobby, perché le leggi le scrivono in Banca d'Italia, le scrivono le casse di previdenza, noi non abbiamo parlamentari che scrivono, arrivano già gli emendamenti fatti, parliamoci chiaro, si prende un parlamentare, li si convince, la società di lobby li riconvince, già oggi accade così, quindi noi andiamo a costruire ancora di più il Parlamento di Burattini, è una battaglia importantissima, noi ci siamo costruiti come comitato, saremo anche nelle televisioni nazionali, ci hanno a base al nostro... Ma poi questo referendum, se si farà, quando si farà? Questo è un altro gravissimo problema che segna il disastro della classe politica che abbiamo, si fa, sembra che si faccia e vogliono, assolutamente hanno deciso, abbinarlo con le elezioni regionali, qual è il grave problema? Che cosa succede? Un referendum che succede? Vuol dire che in quelle sette regioni il popolo, in cui si voteranno regionali, e che c'è anche la Val d'Aosta andare a votare prima, il popolo non discuterà di questi temi per un mese, sentirà argomenti, rifletterà, parlerà al bar, ma sarà coinvolto nelle elezioni amministrative comunali, che prendono il 90%, perché si candida il cugino, e le elezioni regionali. Ora non si può svolgere un referendum costituzionale insieme alle elezioni amministrative, questa cosa è stata fatta presente, ma in tutti i modi si sono, tutti i partiti si sono, anzi no tutti i partiti, qui bisogna dire i giallorossi, i giallorossi sono stati loro a dire la verità. Il secondo luogo cosa accadrà? Che noi avremo sulla base dei progressi e referendum costituzionali un quo, perché non c'è il quorum come sai, voterà il 25% in 13 regioni, il 60-70% in 7 regioni, è una cosa scandalosa, la riforma costituzionale sarà attribuita in particolar modo a 7 regioni, però è veramente ridicolo, nessuno ha interesse, non esiste nessun interesse generale a far svolgere il referendum insieme alle amministrative che si svolgono in alcune regioni, questo ci dice il livello, diciamo la depressione, il livello terribile dove siamo arrivati. Avrà a che fare qualcosa anche con lo stato di emergenza immagino che è stato prolungato. Sì sarà quella, facciamolo a marzo, questa è una decisione che caratterizza dallo sviluppo di un po', facciamo a marzo, facciamo una legge e lo facciamo a marzo, non voglio dire che andiamo a votare allora, se abbiamo timore che magari dopo il 20 settembre Covid possa riesplodere e così via, allora noi lo facciamo, lo faremo, ma ne dobbiamo parlare se noi ci volessimo ancora bene.